Buongiorno a tutti, io ringrazio Abreas per le sue belle parole e per il lavoro che faccio quotidianamente al Parco di Cucci e ringrazio Alessandro che mi ha voluto omorare incaricando questa responsabilità, questo coordinamento dal punto di vista scientifico per questa parte inerente a questo ciclo nuovo di conferenze, al talk show come lo chiamiamo lui, con questo nuovo sistema che speriamo sia anche più facilmente digeribile da un pubblico che non è perfettamente coinvolto dalle problemi scientifici che non tutti i giorni affrontiamo. Già all'inizio con 5 superintendenti è un buon modo raccontare gli agi sicuramente. Meglio 5 che uno sotto. Giustamente Andrea, a notare questa cosa ma non hai detto bisogna dire quello che succede perché 5 sono tanti, chissà, sono curioso anche io di capire quello che succederà con i prossimi. Poi vorrei ringraziare ulteriormente l'istoria che è più interessante per il fatto di aver permesso a Cucci di essere definitato l'onore della vostra che fa parte di tutto questo sistema da lui organizzato. Dovete sapere, posso dare partecipazione perché presto sono state già firmate le carte di tutte le organizzazioni presto che è la mostra dei spingi. Allora, la mostra dei spingi per dirvi che era quest'ospite d'onore che è un simbolo sia per Cucci che per tutti i dedruschi, che è la sfinge. L'ultima sfinge che abbiamo ritrovato sull'iscale a Cucci qualche anno fa che abbiamo esposto anche al museo per un breve pericolo, prima di trovare la sua collocazione di vita farà un salto, vi avviterbo, in modo da, come dire, rendere partecipi al pieno quello che è il cuore di Cucci all'interno di una mostra molto interessante e importante che è quella che è arrivata appunto di Etrusca in 3D. In questo modo in 3D ce la leggo anche fisico, non solo virtuale, ma con un progetto simbolo di quella che è la cultura etrusca. Dopodiché, voi avete il menù di tutta la manifestazione e quindi avrete anche visto che questo ciclo di incontri è un ciclo piuttosto importante anche per le persone che sono abitate e che hanno accettato volentieri di vivere più abitanti a partire dai 5 subintendenti e successivamente, oltre, dopo una parentesi tecnologica che è legata appunto ai sistemi di realizzazione del 3D, del SESCAN, con uno dei principali e più colleghi di tecnici del settore, da Remondino, da Montezione Kessler, di Trento, e a Antonella Guilazzoni, di Cineca, di Bologna, che è quella tecnico che ha curato poi, sì, di Venezia Luglia, con un personaggio di Ati, quindi questo cartone è molto didattico, e a Suorelli che è una delle risorse più importanti al territorio, che è un tarquinese, il rusco ottiene anche lui, e che si occupa di queste nuove tecnologie a riguardo alle culturali da tanti anni. Il primo incontro con un archeologo solo, o pochi archeologi, ci sarà a gennaio, ovviamente da dove si... il 29 gennaio, il 29 gennaio, il 29 gennaio è ovviamente da dove si comincia dall'inizio. Allora, dobbiamo parlare dei Vitanoriani, che ha la cultura, un'indigina autottona che a qualche misura si arricchina di contatti con l'esterno, tali che poi hanno dato origine a quella che chiamiamo, la civiltà di Rusca. Quindi, Marco Paciarelli, che è uno dei più importanti studiosi in questo periodo, in Italia e Europa, insegna a Napoli, e in più scava, qui, in precedente, molto nella vantideria, scava l'insediamento che ha le prime fasi di frequentazione esattamente nel Vitanoriani e ha, tra l'altro, anche la fase successiva di Rusca. dopo l'apertura con Marco Paciarelli e Puglianoiani, non potevano non onorare la sede di Viterbo e l'acqua rossa non poteva essere scelta. I lunghi anni di scavo dell'istituto svedese ci saranno raccontati in quell'occasione, il 19 febbraio, e soprattutto ci sarà, avremo piacere, di avere sia uno dei protagonisti, Eva Lister, ma anche il neo-diettore dell'istituto svedese di Roma, Christian Göransson. Con i quali potremo ripercorrere un po' quello che riguarda la storia dell'archeologia di Viterbese, che è una parte della storia dell'archeologia di Viterbese, anche legato in tutto a Gustavo Adolfo, re di Svezia che, come tutti sapete, è un'ottima storia d'archeologia di Viterbese. La storia dell'archeologia di Viterbese è una curiosità importante. Christian Göransson, direttore di Schiavi, è stato articulatore della Mostra dei Ruschi 3D nel 2013 a Stoccolma, ma siamo stati per i temi, quindi è un nostro estimatore oltre che un direttamente coinvolto. Grazie Alessandro per la precedazione, utilissima, visto che questa operazione è legata sempre e comunque anche alla Mostra dei Ruschi 3D, quindi a tutti gli elevatori sarà un po' una corazzata a tutti occhi, e quindi dovrà necessariamente subire la visita a queste Ruschi 3D. Quindi con Christian Göransson supponiamo che non avremo problemi, poi gli altri non sappiamo. Andiamo avanti con il 26 febbraio, con il direttore del Museo Faina di Orvieto, che è sempre della Sina, che oltre che essere direttore del Corvieto è anche docente di etruscologia e tecnica italica dell'Università dell'Avila, è anche un giornalista affermato anche sulle pagine di archeo, e proprio dalla fortunata esperienza di una monografia a lui scritta per i titoli di archeo, le voci di etruschi, nasce la sua, diciamo, relazione, perché racconterà come è riuscito a comunicare così bene gli aspetti quotidiani della vita delle Ruschi. Andrea se mi conferma che questa monografia è quella che nella storia delle monografie archeo è una di quelle che ha avuto più successo, esaurita quasi subito. Quindi, anche per capire meglio il successo di questa operazione, incontreremo Giuseppe della Fina, che ci illustrerà sia gli aspetti più tecnici di quello che mi viene da scrivere, ma soprattutto ci racconterà gli etruschi, gli etruschi in maniera tale che siano loro stessi a raccontarsi. Dopodiché, a proposito di comunicazioni, parleremo della comunicazione con la televisiva. Chi meglio di il nostro collega è Gian Piero Zinger, che è un archeologo, che ha scritto già anche delle cose del corregato per l'epoca di storia nel passato, e che è un aiuto regista di Superquart. In realtà è l'archeologo della trasmissione, e l'archeologo che risolve tutte le cose archeologiche che Superquart, ma non solo Superquart, ma anche UIS e anche Massaggiano D'Ovest, cioè i programmi di Piero, che ha scritto a Massaggia, sono di sua competenza per quello che riguarda il suo lavoro. Quindi interroggeremo lui in quell'occasione per capire come l'archeologia si confonda e possa essere valorizzata dalla trasmissione delle desideri. Quali sono poi i carni che questo aspetto deve mettere in campo. Dopo, qui c'è un po' una caduta improvvisa con i miei incontri, e io e Albers cercheremo di ammigliare il meno possibile il 18 marzo con questo tema dei parchi archeologici, partendo ovviamente da quelli che sono legati agli etruschi, e partendo quindi anche da quello che io conosco mai fra i pulci, ma non solo. Vedremo come si costruisce un parchi archeologico, quali sono le finalità, perché, e quali sono i benefici che le risultanze vedano dal palco o erano fuori. So che qui all'interno c'è un po' di attenzione per alcune aree etrusche, che qui sono stato contattato da alcuni archeologi di Trepesi recentemente per avere informazioni a riguardo. Mi auguro che questa cosa possa servire da stimolo e che insieme si riesca a far capire che ci vuole sicuramente un sacrificio importante da parte delle amministrazioni e della comunità, ma i ritorni sia il numero turistico che anche il paesaggio, soprattutto, della conservazione e del paesaggio. Anche io credo che sia una delle cose più importanti che possiamo spendere in Italia, ma che dobbiamo a questo punto anche preoccuparci di conservare. In questa occasione spero che si possa chiarire un po' di più questi aspetti e verificare se ci fossero eventuali possibilità di allargare poi la situazione e anche la zona più importante. Fatto questo, lotta a mille. Prima, con Giuseppe della Fine, avremmo sentito già a questo punto le voci etrusche. Gli etrusche che si raccontano. Adesso andremo conti in pace. I canopi, questo incontro con Giulio Colucci del Museo di Pianciano, che è quello che sicuramente conosce meglio. Ecco, nel penultimo numero, non quello che ci avessimo, ma nel numero di dicembre di archeo, c'è proprio un articolo, vedete, sui canopi che è fatto da Giuseppe della Fine. Quindi, in questo caso, abbiamo mischiato Luci e Volci, ma ovviamente per un buon fine. Giulio, Giulio Volci è sicuramente il maggior conoscitore delle facce brusche, perché ha scavato le robole ricchissime intatte. Giulio Volci ha avuto la fortuna di trovare centinaia e centinaia di tormentante, con, quasi tutte, all'interno, la raffigurazione del defunto, grazie al suo vaso da nuovo. Cioè, vedete, sopra il vaso, contenente le ceneri, è rappresentata, scolpita, la faccia, la faccia del brusche. Non sempre bella, dobbiamo riconoscere. Stilisticamente e qualitativamente non è questo il problema. Il fatto è che, però, riusciremo a marcarire come loro si vedivano, come loro si descrivivano. Poi, nel dolcissimo fondo, il 15 di aprile, è tutto a Taraduncevino, eh? Come si dice. Per cui ci sarà un incontro legato alla cucina rusca, di cui anche io poi ho parlato in molte occasioni. Ma, in questo caso, l'incontro sarà con la direttrice del museo archeologico della Maremma di Grosseto, Maria Grazia Celuzza, che è un archeologa, e con un antropologo, un famoso antropologo elementare, che è Sergio Grasso. Ricorderebbe le trasmissioni televisive di Sergio Grasso, c'è una che è ancora, Grasso non troppo, che va su Marco Polo, a Vesto, insomma. Vediamo che cosa uscirà fuori dall'incontro tra un archeologo e un antropologo alimentare. Mi auguro che quello che riusciranno a farci capire, in quella sede, sia di Polo Spicciola a Cina che va a fare successivamente. Certo. 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 tutti i tecnici nell'alimentazione. Concludo dicendo che siamo all'inizio dell'anno, non voglio farlo augurio a tutti noi, che ogni anno, da qui in avanti, sia l'anno degli Etruschi. L'anno scorso è stata intrapresa un'iniziativa legata a vanno degli Etruschi a livello a carattere territoriale, forse non tanti mezzi, non so, ma quest'anno mi sembra che il programma, il tuo posto, dia ulteriore luce e brillantezza, credo che è un aspetto fondamentale della cultura di questo territorio. Speriamo di continuare così. Grazie. Io vorrei che concludessi con due parole il Presidente dei Live di Evo, Danilo Zitti, per raccontare un po' quello che è il nostro spirito di partecipazione a questa iniziativa. Grazie. Intanto a nome di tutti i soci del credo che mi erano di rappresentare, vi saluti ai presenti e chiaramente siamo entusiasti a questa iniziativa, parteciperemo con i nostri soci ai nuove conferenze che sono in progetto. Ma oltre a questo, parliamo anche dell'Italia di rete, nei confronti proprio dell'ArioCrab, è previsto poi un incontro, un incontro reciproci con i soci, con l'ArioCrab del Totecapoli, di partita quindi della Totecapoli, e quindi sarà l'occasione per noi anche di procedere a visite, a scambi di visite, e quindi a una qualificazione del territorio, non soltanto quello di del Pese, ma quindi anche il territorio particolarmente della Totecapoli. Quindi in questo modo noi parteciperemo a quello che è uno dei nostri obiettivi dell'ArioCrab, che è quello appunto della valorizzazione del territorio e quello praticamente della valorizzazione in senso pieno. Questo è uno di quelle iniziativa in questo senso, cioè quello di attualizzare il presente, l'interesse degli nostri alternati per il popolo edusio, di cui poco si sapeva. Io mi ricordo che a livello scolastico, quando sono stato scolastico, si insegnava anche un poco, perché così era un poco misterioso, alleggiato così, non come intelligenza. Quindi è veramente una riscoperta, diciamo, del territorio delle nostre amici, e lo faremo anche a livello vicino, ma del territorio e del territorio del territorio. Grazie ancora. Allora, ecco, ti ripeto, che se ci sono avventi stampa che non hanno avuto il comunicato con la cartettina, lo dicano perché è l'accensione, quindi andiamo. Non so se siete tutti a posto, a fare adesso tutto alle quali. Allora, vi invito a lasciare le ammettizie nel punto c'è il libro per ricevere i file direttamente, in modo da che possiate collaborarvi tramite il libro. Grazie. Qui vi chiedo dati una mano per quello che può essere, diciamo, il vostro lavoro e nel modo che vedrete senz'altro più opportuno. Mi è piaciuto questo sottolineare che siamo riusciti a fare squadra perché è questo il segreto per poter fare delle cose. In fondo, la forza di tanti, con pochina per uno, riesce a diventare un maglio per formare a qualunque spessore. Per quanto riguarda la storia, ci siamo dati sempre un grande affare. Lo stiamo facendo, continueremo a valo perché è giusto che sia così e soprattutto perché qualcuno deve fare. Guarda il Presidente Brutti, mi guarda per il video di cerchio di cerchio di cerchio di cerchio di cerchio di cerchio. Quindi, ringrazio a tutti per essere intervenuti. Io rimango tutti noi a disposizione. Ci vediamo l'undici e cominciamo questa avventura che arriverà fino alla fine di Ossini. Grazie. Grazie a tutti.